Capitano delle giornate come sono capitate nel periodo di luglio ed agosto nella quale abbiamo vari incidenti stradali, incidenti di montagna che vengono ad aumentare il numero dei codici gialli per cui il codice verde, così come il codice bianco, attende qualche tempo in più. Non sono rari casi di lamentere di racconti dal sapore fantoziano di intere giornate trascorse il pronto soccorso dell'Aquila in attesa di essere visitati. Al microfono di TV6, il direttore del pronto soccorso dell'ospedale dell'Aquila in persona, Luigi Valenti intende però sfatare una non corretta percezione della realtà dei fatti. I tempi medi di attesa al San Salvatore sono infatti numeri alla mano assolutamente nella norma e accettabili. Ingresso immediato per i codici rossi, casi gravissimi, 34 minuti per i codici gialli, un'ora e mezza per i codici verdi, appena un'ora per i codici bianchi. Il problema, semmai, è che il pronto soccorso, che dovrebbe servire solo per far fronte alle vere emergenze, viene usato in modo improprio dagli utenti, che in molti casi dovrebbero rivolgersi al medico di famiglia. Il pronto soccorso ha un suo scopo ed è quello di dare la precedenza a tutte quelle che sono le patologie gravi, cioè tutti quelli che vengono indicati come codici rossi e codici gialli, che hanno la precedenza su tutto. Ora, il codice verde sono tutte patologie che non hanno nessun riferimento ad alterazioni dei parametri vitali. Al pronto soccorso del San Salvatore, spiega poi Valenti, non c'è linea di principio mancanza di personale, bastano i 18 medici e 28 infermieri attualmente in servizio, ma con il taglio dei posti letto negli ospedali il carico del lavoro e delle responsabilità è aumentato. In Italia sono stati ridotti all'incirca 75 mila posti letto. Il pronto soccorso, da pronto soccorso terapeutico che era diversi anni fa, io sono nato come pronto soccorso nel 1981, tutto questo non si vedeva. Oggi il pronto soccorso è diventato diagnostico, quindi per poter mandare a casa una persona in quanto non si ha a disposizione il posto letto così come era una cosa, per aumentare la capacità di filtro del pronto soccorso il paziente rimane o in pronto soccorso o in osservazione breve per un tempo superiore e che logicamente non fa altro che togliere tempo ad altre possibilità.